Ciao a tutti amici del canale Oggi siamo qui con una nuova video recensione Allora, qui il momento per me è importante Perché voglio condividere con voi Finalmente ho avuto l'occasione Questo, come avete già intuito vedendo già sul bancone Questo è uno dei miei orologi preferiti Cioè nel senso, a me piacciono tutti Ma questo qui è uno che veramente Sono quei orologi che mi fanno battere il cuore Quindi, niente, questa recensione sarà ovviamente obiettiva Perché parlerò anche di alcuni, diciamo, chiamamoli difetti Oddio, alla fine comunque c'è tutto un discorso dietro Poi lo vedremo mano a mano Allora, qui abbiamo il bellissimo Lojin Legend Diver Quindi, ormai il conosciutissimo Cioè forse in Lojin Almeno per quanto riguarda noi appassionati Anzi, a livello di heritage Forse l'heritage di... Perché appunto, se non sbaglio Lojin Legend Diver Heritage È quello che è appunto più famoso Del gruppo Lojin almeno Per quanto riguarda l'orogeria moderna Perché appunto va a prendere un vecchissimo modello Cioè il vecchissimo Oddio, il vecchissimo Sì, vabbè, alla fine comunque degli anni 60 Del Legend Diver 7042 E quindi questo va a riproporre Chiave moderna Questa è la prima edizione Quella con il... Vabbè, adesso con il movimento Quello ETA 2824-2 Su base 2824-2 Poi un po' modificato Ma niente di che Rimane sempre quello E non su quello del 2018 In poi che alla fine montano Il 28... No, il 29 Comunque Il modello L888 Che è su base 2892 E niente Abbiamo fatto una mini introduzione Adesso Lo vediamo da vicino Così ce lo gustiamo insieme Perché so che a tanti piace questo orologio Ed eccolo qui ragazzi Eccolo qua Prima di parlare Lo so che La luce non rende giustizia Ma ripeto Io ho fatto appunto La rubrica di orologi in vetrina Per gustarsi meglio gli orologi Qui invece è una recensione Appunto Lo vediamo insieme Impressione a caldo Come di dopo partita Allora ragazzi Qui sarò di parte Perché Ve l'ho già detto Questo orologio Che a me Mi ha sempre rubato il cuore Meraviglioso Eccolo qui Allora Va bene Partiamo dal Presupposto che Il cinturino Non è il suo Non è originale Perché Chi me l'ha Prestato Non è mio Non ho prestato Il cinturino L'ha consumato Comunque si è Susurato E comunque Era il cinturino Quello con la trama Praticamente Appunto Che ha la fibbia E non la deplo E quindi L'ha Ha sostituito Con questo Comunque Che è un alligatore Allora Cosa possiamo dire Questo qui è il famoso Appunto Legend Diver Che si ispira In chiave moderna Che appunto Nel 70 42 Negli anni 60 Che si ispira In chiave moderna A Lo Jin Nel 2007 Lanciò questo qui Che Ricalca Completamente Porta con sé Dietro l'eredità Di questo orologio Allora Nei dettagli Visivi Del Le cose Diciamo fondamentali Sono tante le cose da dire Ma quella È fondamentale Appunto Che ha mantenuto Appunto La cassa Super compressor La cassa Super compressor Fu Brevettata Sempre in quegli anni Praticamente È una cassa Dove Ha la ghiera interna Ma soprattutto Il sistema Di impermeabilità Perché appunto Più si scende In profondità E più un sistema Di guarnizioni Del fondello Della cassa In generale Chiude più Ermeticamente Il fondello Quindi la cassa È famosissima Appunto Si chiama La super compressor Appunto È dotata Di due corone Con questa bellissima Zigrinatura La cassa È tutta lucida Che appunto Sono tutte e due Avvite Una va a regolare Vediamo se ci riesco Con i guanti Non è semplice Va a regolare La ghiera interna Si svita Eccola qua La mettiamo A suo posto E poi si spinge E si riavvita Con i guanti È veramente Impossibile È inutile Poi vi faccio vedere Quella d'ore e 4 Perché è la stessa cosa Si svita Per regolare l'ore Insomma Settare Ma questo Diciamo Non devo io Non sono io Che devo farvelo vedere Ma sono cose Ovviamente scontate Quello che a me piace Appunto È condividere insieme L'esperienza Di questo bellissimo Login Allora Login Sul padrante È tutto applicato È scusatemi Stampato Sia la scritta Automatic Sia tutto Praticamente Con questi Numeri Ad ore 12 3 6 E 9 Che hanno Appunto La cap Che poi alla fine Non capisco perché Ah ecco qui No Ho capito Al posto del 3 Ecco questa è una cosa Che a me non Ecco da dire Per esempio Che la prima versione Che uscì nel 2007 Non aveva il quadrante Non aveva la datario Poi alla fine Uscita la versione Nel 2009 Uscì la versione Questa qui Con il datario Io sinceramente Apprezzo più quella Senza datario Però queste sono Sono alla fine Sono costi Perché sinceramente Vedere al posto del 3 Il 25 del datario Anche se Non stiamo parlando Di qualità Non mi piace tanto Però Alla fine È sempre Legend Diver Quindi anche questo Lo possiamo far passare Abbiamo questa L'organizzazione Del quadrante Veramente appunto Rispetta Quella iconica Mantiene L'eritage Appunto Perché abbiamo I puntini Sulla Scala Tachimetria Quella della Appunto Della Ghiera Che è interna Appunto Rispetta Con i puntini Le barrette E puntini Le barrette Invece Per quanto riguarda Il quadrante Vero e proprio Abbiamo sempre Linee Indici Tutti I linki La barrettina Insomma Veramente Tutto Proporzionato Il nero È veramente Ripeto Con la telecamera Così non rende Veramente giustizia E il nero Veramente Un nero profondo E queste colorazioni Appunto Sono Questi gialli Appunto Che appunto Ricordano Gli anni Quegli anni Che appunto Si usava Queste Tipo Queste Paste Luminescenti Allora Per quanto riguarda Il vetro È bellissimo Perché è un vetro Bombato Appunto Che mantiene Sempre L'eredità La cassa È in acceio 316L La misura Sono 42 Di diametro 22 Il cinturino E lo spessore 1,4 Lug to lug È 52 Quindi comunque È un bel Pezzo Però se non sbaglio L'originale Era anche così Quindi ha mantenuto Proprio tutte le sue Caratteristiche La 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 nota dolente Per me Cioè che nel senso Mi ha lasciato Avevo visto altre recensioni Per carità Però quando l'ho visto Dal vivo La nota dolente È stata Il Super Luminowa A mio avviso Il Super Luminowa Dovevano giocare Molto meglio Perché è un orologio Che ha un'impermeabilità Di 300 metri Lo so che È una riedizione Storica Appunto Dal valore collezionistico Però appunto Secondo me Con il Super Luminowa Dovevano veramente Abbondare Tanto E quindi questo Un po' Mi ha lasciato Deluso Però alla fine Pazienza Cioè L'orologio Poi alla fine Ti fa passare Tutte quelle Per non parlare Per non parlare Del fondello Che è meraviglioso Meraviglioso Nulla da dire Abbiamo qui Il sub Che appunto A basso rilievo Con questa Lucido Su quella parte Diciamo Opaca Sempre in metallo Legend Ha cambiato Il cinturino Il padrone Però Il proprietario Però ha lasciato Ovviamente La fibbia Su originale E quindi È uno spettacolo Ragazzi Veramente È uno Spettacolo Quello che Volevo dire È che I modelli Fino al 2018 Hanno montato Il modello Quello su base Etac Con il 28-24-2 Invece Con i modelli Nuovi E dal 2018 Hanno cambiato Il movimento Facendogli fare Un piccolo salto Di qualità Che è il 28-92 Ricordiamoci Che Il 28-92 Ha le Alternanze Più basse Ne ha 25.000 Se non sbaglio Sì E la riserva Di carica È molto più alta Invece Il 28-24-2 Ha 28.000 Alternanze Con 38 ore Di riserva Di carica Questo è il calibro Cioè comunque Sono due calibri Totalmente erodati E non hanno Problemi Per niente E Niente Allora Alla fine Questa è una cosa Che non Il Sempre leggendo Informandomi Quando è stato Fatto questo Costruito Questa nuova reedizione È vero che È della La cassa E tutto il disegno Del 70-42 Però le lancette Non sono Del 70-42 Ma sono Del 75-94 Che è un altro Punto Heritage Di Lojin Non so perché Ha fatto questa scelta Lojin Però Alla fine Comunque ci stanno Bene Abbiamo questi indici Queste sfere Veramente Caratteristiche Alla fine Ci sta bene Quindi Non posso dire Perché non sono Di parte Con questo orologio E quando lo tengo In mano Mi dà Un'emozione Fortissima Perché è un orologio Che continuerò A desiderare Spero prima o poi Di portarmelo A casa Anche se io preferisco Quella Con la maglia Milanese Cioè Il mesh Praticamente Mi piace di più Mi dà più sensazione Di mare E niente ragazzi La recensione Si conclude qui E non posso Che ringraziarvi Ovviamente Sempre E niente Ci siamo gustati Questo bellissimo Lojin Spero di avervi Trasmesso Le mie emozioni Perché questo È un orologio Che io Veramente Lo ritengo Bellissimo E niente La pecca Diciamo Che Il fatto Del super Luminava Quella Quella mente Dove Dovevano Per renderlo Perfetto Abbontare Tantissimo Niente ragazzi Ci vediamo Al prossimo Video E come al solito Grazie Ciao